Continuare a sentir parlare uno dei protagonisti di Mani Polite ancora in questi anni, come Davigo, con quello che è stato capace di dire rispetto ai suicidi e alla mancanza di fonti, dico al collega Costa che ci pone un problema non di testi attitudinali, non di test psicologici nei confronti di alcuni magistrati, ma di test psichiatrici nei confronti di chi si permette soltanto di dire una cosa del genere.